Chiusure e restrizioni hanno caratterizzato i giorni di festività appena lasciati alle spalle. Dal 24 al 27 dicembre, infatti, la Regione Campania, come tutto il territorio nazionale, è stata assoggettata alla zona rossa. Non sono mancati controlli a livello nazionale da parte delle Forze dell'Ordine. Solo nella giornata di Santo Stefano le persone controllate su scala nazionale sono state poco più di 64.000. Lo si apprende dai dati del Ministero degli Interni, che fa sapere anche di 969 sanzionati e 8 denunciati per aver infranto la quarantena in casa. Sono state invece poco meno di 12.000 le verifiche sulle attività e gli esercizi commerciali, che hanno portato alla chiusura di 5 negozi e a sanzioni per 30 titolari. Da oggi, 28 dicembre, tutta Italia torna nuovamente alla zona arancione, così come prestabilito dal DPCM Natale, firmato in prossimità delle festività dal Presidente del Consiglio, Giuseppe Conte. Provvedimento che avrà efficace fino al 31 dicembre, giorno in cui lo stivale tornerà a tingesti di rosso. Fino a mercoledì si tornerà allo scenario antecedente al giorno 24. Sarà dunque evitato spostarsi fuori dal proprio comune di residenza, salvo comprovate esigenze lavorative o di salute. Nuovamente consentiti invece gli spostamenti all'interno del proprio comune, mentre gli esercizi commerciali potranno riaprire, eccezione fatta per bar e ristoranti. In questi giorni, inoltre, già si guarda a ciò che sarà dal 7 gennaio. In particolare la Regione Campania studia la ripresa delle attività scolastiche. Sono cose che mi fanno impazzire, chiosa il Presidente Vincenzo De Luca. Come si fa a dire si apre senza verificare il 3, il 4 gennaio la situazione? In Campania non apriamo tutto il 7. Valutiamo un passo alla volta in rientro, aggiunge il Governatore, ma certamente non mandiamo in blocco il 50% a scuola.